Quarta candidatura ufficiale alla carica di primo cittadino, dopo quelle di Angelo Biondi, Giuseppe Ripellino e Giuseppe Montana, è la volta di Pino Galanti, sostenuto dal Partito Democratico e dalle liste civiche rialziamoci, licate in movimento e il domani. Pino Galanti svolge la professione di farmacista ed è alla prima esperienza diretta in politica. Desidero restituire alla mia licata dignità, legalità e prospettive di sviluppo nuovo che un paese come il nostro merita e deve pretendere le sue parole e siamo un gruppo di persone che hanno costruito un percorso vero che condivide valori etici e politici di lealtà, fiducia e onestà, senza ipocrisie e senza finzioni. Nella nota diffusa ieri che annuncia la candidatura del dottore Galanti è specificato anche che si tratta di una coalizione ancora aperta a tutte le forze politiche e civiche presenti sul territorio che con pari dignità vogliono partecipare alla costruzione del progetto di cambiamento. Donne e uomini appartenente alle svariate categorie sociali si sono uniti formando la squadra che intenderà dare il tanto agognato riscatto alla città e alla sua collettività attraverso un programma snello, continua la nota di Pino Galanti, con elementi chiave al rilancio del territorio, un progetto che si realizzerà attraverso un'azione amministrativa intesa alla collaborazione e alla valorizzazione delle risorse umane del comune. Sale pertanto a 4 il numero dei candidati che hanno rotto gli indugi. Domenica in piazza Sant'Angelo verrà annunciata poi la candidatura di Angelo Cambiano.